Tralasciando il fatto che si è perso, che chiaramente è una cosa che è demoralizzante soprattutto contro un avversario che fino adesso, guardando la classifica, era diciamo abbastanza alla portata, vedendo anche la prestazione di oggi, chiaramente come sempre ve lo specifica con tutto il rispetto però obiettivamente parlando, appunto lasciando stare al fatto che abbiamo perso, la cosa che a me veramente mi ha buttato giù è che oggi bene o male, non al 100% ma quasi, la squadra era vera di inizio anno e sono d'accordo, va bene, i vari fattori classici, magari uno andò già in trasferta, poi vabbè ci può stare la giornata no, quello che vi pare, però dì io ho proprio visto una squadra, cioè ho avuto a virgolette una sorta di deja vu a livello di prestazione, su tutti i punti di vista, cioè per e vado a settore dell'anno scorso, ovvero vando a scegliere di una squadra che già tanto si è, fino alla fine hai tra virgolette lottato per entrare a playoff, anche se poi vabbè, cioè non sta comandata, e questa ossa video a me personalmente lo so che è una partita, cioè nel senso non è che è una sfizza perché si sa vedere quella prima si è persa, però non lo so oggi ho buttato particolarmente giù, mi ripeto, è una ossa mia e boh, ci sta che io vedo diciamo troppo nero dove non c'è, mettiamolo così, e boh, cioè la prestazione di oggi è stata, credo come ho detto prima, sotto tutti i punti di vista brutta, ma non tanto perché si è perso, quello proprio è stato il risultato da una parte anche giusto, eh, in quanto visto, questo, però c'è una squadra che soprattutto, a parte che devi sempre prendere i go, vabbè la semesternale go è comunque auto-go o meno, resta di fatto che la Pro Vercelli comunque in confronto a noi ha giocato meglio, seppur, come volevo specificare all'inizio del video, non ha fatto la grandissima partita, c'è una inizia, perché loro a volte hanno peccato in qualcosa, e comunque dicevo, a parte il discorso di che si è preso i go, come sempre, che è comunque più provato, ha svegliato un po', e mi sempre nego, cosa che io non capisco, cioè, ad inizio anni va avanti questa, questa chiamava la storiellina, eh, c'è un discorso di, di voglia, io personalmente, cioè, da inizio anno adesso si è visto comunque o Livorno a chi è soprattutto andare a svantaggio, ma vuole fare qualcosa, perlomeno bene o male tutte le partite, ma a volte alti e bassi, la voglia scelta di poter fare qualcosa, e oggi non dio che, eh, Livorno non abbia provato la riequilibra della partita, o perlomeno, ma, ah, tra virgolette, si stimano le osi, però non ne ho visto la grandissima aggressività, cioè, diciamo, Livorno si è reso veramente, ma veramente periloso, eh, cioè, all'ultimi minuti, nei minuti di Ubero, toh, dal quarantesimo fino alla fine, fino a prima sì, prova a fare qualcosa, ma, cioè, è roba veramente superficiale, e qui non c'è il solito discorso, come magari si è visto nelle precedenti, nelle precedenti partite, ehm, ovvero che, arrivi lì davanti porta, poi boom, cioè, oggi forse è capitato due volte, ma, due volte di tanto, cioè, relativamente, è successo una cosa simile, cioè, da arrivare in porta e poi magari non concretizzare quanto creato, perché oggi ci arrivavo male, cioè, l'idea è zero, o quasi, poi, oh, ripeto, opinioni mia, a me uno mi dice, guarda, forse oggi Livorno, ogni volta che ha perso, non va a perdita, boh, eh, a me questa serie, soprattutto, vabbè, il fatto di perdita, ma ha demoralizzata parecchio, e, boh, perché anche dal punto di vista del jogo, che io, come sapete, mai ci sono fissato, cioè, zero, zero, e, boh, non so cosa dire, perché, giusto, perde, boh, vabbè, mh, davvero, non so più cosa dire, perché, boh, non lo so, oggi mi ha preso male, mi ha sconfittato su parecchio, magari, boh, c'è qualcun'altro, la può vedere come è diversa, magari la può vedere come una sconfitta non così tanto grave, però, non lo so, ho visto veramente, cioè, forse mi aspettavo troppo, nel senso, quando io ho visto la squadra al completo, no, all'inizio campionato, e poi per vedere le infortuni, in primi se vede di vantaggiato e quelle di Fedato, ho detto, va bene, ok, i risultati sono un po' travalanti, perché magari possa, come sempre detto anche nei precedenti video, mancava delle pedine importanti, come loro due, ecco, è vero che Fedato, ok, è rientrato nel senso tempo e magari non è nella condizione ottimale, ok, però bene, ma la squadra è questa, cioè, toh, forse peccavi un po' in difesa, perché comunque mancava uno che dall'anno scorso adesso, tra tutto, cioè, si è conquistato un posto più che meritato, cioè, meritatissimo, poi mi erano tantissimo, ovvero mi riferisco con l'ambrughi, che, boh, forse non lo so, mai mancava lui, e questa assenza di indifesa magari da quando, diciamo, non giò, perlomeno, non giò a centrale, si sente, non lo so, boh, anche il centro-amp oggi, anche Luci, non Dio che ha giocato malissimo, però non è nemmeno Luci che ho visto da inizio campionato d'ora, che era Luci, a parer mio, comunque, tra virgolette, in Atomi, che, dalla Serie A, l'anno scorso, adesso, è cambiato da così a così, cioè, a Luci che, comunque, se Dio vuole, l'ho rivisto, e oggi Luci mi è arrivato un po', diciamo, era Luci spente, eh, che be', cioè, non stava, stava triste, è molto lì, boh, le fasce, uguale, le fasce oggi c'erano relativamente, ieri ci ha perso nel sbotto dei palloni, che ha fatto lui più che fascia era un esterno arte, vantaggiato a volte dove, per virgolette, rendersi un po' più periodoso, come magari di solito fa, e oggi nulla è stato, poi vabbè, se no sta il fatto che nel primo tempo, se si va a vedere, non di vantaggiato di tutta la squadra, non so nemmeno se si è fatto un triomporta, perché il primo tempo è stato, cioè, fra due tempi, il primo tempo è stato, da virgolette, vero, un po' più disastroso, boh, sono cose che, magari, per alcune, sono piccolezze, per altri, magari, tipo me, sono cose meno piccole di manta sembra, e a me, boh, mi hanno buttato parecchio giù, poi ripeto, ci sta che oggi, boh, sono io che sono giù di morale, che anche se mi diceva, sì, sei vinto, e, boh, non lo so, sarei fatto che oggi perde contro Provercelli, che ripeto, con tutto rispetto, io però cerco di essere obiettivo e parlare della situazione attuale della squadra, ovvero anche della Provercelli, della prestazione odierna, che comunque procedessi, ha vinto, giustamente ha vinto, perché comunque il governo da noi ha vinto direttamente, cioè, è giusto che la squadra che aveva vinto è stata lei, se fossero stati loro, però, cioè, detto papà a papà, era fattibilissimo la partita, perché anche loro si guardavano parecchio, e quello che mi fa incazzare è che Maremma Cani, oggi non ce l'ho mai creduto in fondo, a poter riequilibrare la partita, addirittura ribartarla, attento, va bene, boh, vabbè, più che in commento, questa video è stata una sorta, tra virgolette, di sfogo, ma, è che da commentare, per chi ha visto male la partita, c'è da tipo, perché il governo oggi, come ho già detto in un'intervista, ha fatto abbastanza di schifo, non solo dal punto in vista dei risultati, ma proprio della prestazione in generale, e, boh, non c'è oltre di altro, direi di un club di B2B, e ci vediamo allora fra settimana, eh, che se non sbaglio si va a giocare a casa, quindi, speriamo di ribartare un po' le ossi e magari tornare, dato che la squadra comunque sembrerebbe tornata bene o male al completo, di tornare a giocare sui livelli visti in inizio a campionato, che qui, io dirò, i livelli visti inizio a febbraio-marzo, in realtà c'è iniziato un mese, un mese e mezzo fa, quindi, però in questo mese e mezzo purtroppo la squadra, apposta che magari è andata, tra virgolette, in salita, a livello di prestazioni, maffiatamente, quello che vuoi fare, nonostante tutte le assi successi, infortuni, squalifiche, quello che vuoi fare, vedete che la squadra, comunque, è iniziata, diciamo, no, andata in salita, nel senso, stava crescendo, poi è traballato un po' e, almeno, questo lo do io, perché, e poi concludo, anche l'altra volta, come ho detto nel precedente video, seppur comunque è giusto che abbiamo vinto noi, però non è che hai fatto la grandissima partita, soprattutto in confronto alle prestazioni del trapani, già dall'altra partita vedevo un po' dei strani, magari forse per come se lo riguarda se hai visto il video dell'altra settimana, boh, vabbè, questa è la quindicesima volta, ma lo voglio ridire, è solamente la mia opinione, poi ci si può trovare benissimo in disaccordo, via, detto questa vi saluto ufficialmente, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.